Mai più paura della camice, con questo obiettivo i volontari di Mister Sorriso hanno incontrato gli alunni delle scuole elementari Maria Pia e Nesca di San Giorgio Ionico nell'ambito dell'iniziativa Oggi ti curo io in collaborazione anche con una locale farmacia. Entusiasta la partecipazione degli studenti che si sono finti prima pazienti e poi dottori tra mille sorrisi. Stare con i bambini per noi è un motivo, è uno stile di vita e stare insieme a lui è sempre gradevole. Il progetto di oggi, Oggi ti curo io, tende a far avvicinare la figura del medico, dell'infermiere o della cura in genere ai bambini, specialmente ai più piccoli, per questo ci siamo rivolti solo alla prima elementare. Con questo progetto tendiamo a fare questo, a far conoscere gli strumenti che usa il dottore prima magari di vederli per la prima volta in uno studio medico e avere anche un po' di paura, proprio perché non si conoscono. È bello, poi parlo per me, tornare anche nella mia scuola elementare, quindi il nostro intento oggi era quello di abbattere un divario, un muro proprio tra noi e quindi i bambini, quindi abbattere la paura del camice bianco, in poche parole. I bambini si sono divertiti, ci hanno in qualche modo curato, hanno visto come lavoriamo, sia il medico che il farmacista ed è stata una bellissima esperienza, una bella giornata, spero che si siano divertiti anche loro. Avranno un'alleata in più, adesso ci hanno conosciute, ci siamo divertite tantissimo, è stato molto bello, noi non siamo molto abituati ad avere questo contatto con loro. Speriamo di essere state capaci di aver dato un aiuto anche a loro e che da oggi abbiano un pochino meno paura di noi.